Ricorso al Tribunale del Riesame di Palermo da parte dell'Avvocato Giovanni Salvaggio per i fratelli canicattilesi Antonio e Giuseppe Maira di 69 e 63 anni, accusati di usura e distorsione aggravata in concorso. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, pur non ritenendo comprovate e fondate le motivazioni del fermo, non vi sarebbe, secondo il magistrato Pericolo di Fuga, applicato gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per Antonio Maira e la custodia in carcere per il fratello minore Giuseppe. Per il GIP invece sarebbero sussistenti sia il rischio di reiterazione del reato che quello di intimidazione e distorsione nei confronti delle tre vittime accertate. L'Avvocato Giovanni Salvaggio, difensore dei fratelli Maira, insisterà sulla insussistenza del rischio di reiterazione dei reati, così come sulla infondatezza del quadro accusatorio, definendolo esagerato. I fratelli Maira, anche nel corso dell'interrogatorio davanti al GIP alla presenza del Pubblico Ministero e Lenia Manno, hanno smentito di avere prestato soldi ad usura e di avere fatto pressioni nei confronti delle presunte vittime, che hanno però ammesso di conoscere o per vincoli familiari e rapporti di lavoro o perché i titolari di avviate attività artigianali.